La stagione turistica è lo stesso discorso che giustamente fa il Veneto, che fa la Sicilia, che fa la Puglia, qui bisogna interrompere quella che è un'invasione organizzata e pianificata. Questa è un'invasione pianificata da qualcuno che ha intenzione di sostituire i lavoratori con altri lavoratori a basso costo. Il problema non è solo la Liguria, è il problema italiano, anche perché tutti gli altri paesi europei difendono i confini, difendono i loro lavoratori, il nostro governo no. Siamo vicini al primo giorno di scuola.